Amici 3B Meteo, bentornati a questa nuova edizione del TGD3B, immagini del satellite che ci mostrano una perturbazione in transito oggi al sud. Poteva qualche acquazione, qualche temporale, favorisce anche un calo delle temperature nelle regioni meridionali. Seconda perturbazione che si avvicina all'Italia ma aumenterà di intensità man mano che arriva sul nostro paese e giovedì porterà piogge diffuse e anche intense al centro nord, giornata anche difficile, attenzione. Ripercorriamo questa sequenza schematicamente, mercoledì si avvicina questa nuova perturbazione alle regioni di nord ovest, per il resto giornata che vedrà anche ampie zone di sereno e temperature estive fino a 31-32 gradi. Giovedì arriva la perturbazione con il suo calco di piogge temporali soprattutto al centro nord, però poi guardate per venerdì prevediamo una temporanea rimonta dell'alta pressione sull'Italia, quindi sì un po' di instabilità ma l'estate in qualche modo si farà ancora sentire, per fortuna con temperature non eccessivamente alte. Tra l'altro guardate quale sarebbe la media delle temperature massime in Italia in questa prima decada di settembre, valori al di sotto dei 30 gradi teoricamente da nord a sud, ma fino a pochi giorni fa invece i 30 gradi li superavamo anche di tanto e riusciamo ancora in parte a superarli, insomma comunque fa caldo. Per i dettagli sulle vostre località aggiornate o scaricate l'app gratuita di Trevi Meteo.